Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio, Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna a causa di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Calenzano e il Pivio per la variante di Valico. Sulla Fipili ancora per un incidente 1 km di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Mare restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Bruneta. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Vignale-Rio Torto in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!